Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video parleremo bene di che cosa è la serie hashtag la notizia è molto importante ve l'avevo accennato nel recente video di angry shark evolution giusto su che cosa è successo in questi giorni e anche una settimana fa il caso di salmonella dove nei prodotti kinder e io mi sono preoccupato perché io ho fatto praticamente un unboxing che ho aperto tutte le uova di pasqua ed ero tutte della kinder ma poi mi sono informato no le uova di pasqua non c'entrano e soltanto negli ovetti kinder e altre cose ma le uova di pasqua no per fortuna anche se fosse se alla mia età la salmonella fosse più leggero resiste perché un batterio non è un virus comunque sia io vi auguro in dando una buona visione va bene eccoci qui ragazzi e nel recente episodio del video di pasqua avevamo parlato del covid giusto perché è stato lui a cancellarla nell'anno 2020 ma nel 2021 qualcosina ci è riuscito a darlo ma nel 2022 ancora meglio quindi la sua morte e ora nel 2022 forse in estate e poi avevo scritto come sarà la pasqua nel 2022 e poi avevo parlato anche sugli alieni o chiamati anche extraterrestri essere di altri mondi che sarebbero anche i nostri fratelli cosmici ah e avevo dedicato anche un video su questo tipo il titolo si intitolava non solo il covid la guerra e l'asteroide pure gli alieni così ma poi l'avevo concluso avevo trovato una fonte e gli stati uniti hanno investito per questo motivo 770 miliardi di dollari per indagare che cosa siano quei misteriosi oggetti o siano sonde o navi celle aliene oppure di un governo straniero come la Russia o la Cina come droni o armi il fenomeno c'è ma il mistero è irrisolto ancora e poi c'è anche la guerra in Ucraina avevamo parlato adesso parliamo della salmonella visto questo qui ma è un batterio non un virus per i poveri bambini che gli piace l'ovetto kinder purtroppo hanno avuto più e visto questo non è perché per il covid la salmonella è molto pericolosa per i più piccini poi qui in questo grafico guardate quella è la salmonella e quello è il covid eh sono assieme questo qui è il coronavirus i virus sono più piccoli dei batteri il covid è sui 140 micrometri in poi invece la salmonella è dei 3 micron ok adesso andiamo su google e parliamo dei casi della salmonella che sono successe una e qui ragazzi eh il titolo si intitolava questo giusto? eh guardate qui la salmonella visto molte redazioni hanno fatto non solo il covid ma un batterio perché chi non lo sapesse la salmonella uno penserebbe eh un altro virus no questo è un batterio ma si può curare subito con gli antibiotici perché per curare un batterio c'è la soluzione ragazzi ma invece con un virus no per questo esistono i vaccini quindi con la salmonella si può guarire questo batterio fa molte cause all'intestino e visto molte redazioni ci sono guardate se ne trovo una breve la potremmo anche leggere aspettate ecco ecco la Sicilia ad esempio il giornale che si chiama così è breve questo qua in 12 anni contrae la salmonella dopo aver mangiato un vetto di cioccolato sequestrata la confezione finora il focolato di salmonella legato ai prodotti kinder realizzati nello stabilimento Ferrero in Belgio e che ha interessato nei giorni scorsi a gran parte dell'Europa ah da lì è venuta la propriamente la fonte lì è venuto dal Regno Unito e e poi si è diffuso di sicuro sarà stato qualche errore nelle merci nel trasportare il carico e come il covid rencino giusto e poi si è diffuso in tutto il mondo ma qua non avremo la salmonella per tre anni questo qui questo batterio si può curare per fortuna con gli antibiotici già la conoscevamo e nei prodotti alimentari infatti per questo non si mangia la carne cruda ma cotta perché già muore il batterio ah continuiamo a leggere non avevano ancora toccato l'Italia ma ora c'è il forte sospetto di un caso di salmonella legato al consumo di uovetto di cioccolato kinder il nest di Bologna ha sequestrato un uovetto kinder sorpresa dopo che la settimana scorso un bambino di 12 anni si è sentito male dopo averlo mangiato è stata diagnosticata la salmonella e dopo alcuni giorni di ricovero è tornato a casa anche la sorella che aveva mangiato lo stesso prodotto ha causato qualche piccolo malessere la notizia è stata riportata al corio di Romagna il sequestro è scattato in seguito all'esperto presentato il genitore in carabinieri del nucleo antisofisticazione sottolinea il giornale hanno sequestrato uno dei tre ovetti kinder che faceva parte della stessa confezione di quello mangiato dal bambino poco prima di sentirsi male l'obiettivo è capire attraverso l'analisi se possa esserci una correlazione fra il prodotto e la salmonella dopo i casi che si sono verificati in alcuni paesi europei legati a infezioni dovute ai prodotti a base di cioccolato il focolaio scoppiato in Europa riguarda in prevalenza proprio i bambini sotto i dieci anni ah certo perché questo batterio che è più piccolo è molto pericoloso tipo al confronto di un adulto se si mangia questo cioccolato non gli può fare niente beh se fosse un anziano sì perché gli anziani sono come i bambini più deboli invece i più giovani sono praticamente immuni comunque continuiamo a leggere le autorità preposte alla sicurezza alimentare e provinciale contro la malattia ci sono stati in tutto 150 casi a fronte di una media annuale che nel vecchio continente di 91.000 casi gli stati interessati sono Francia Germania Irlanda Lusmargo Paesi Bassi Norvegia Spagna Svezia Regno Unito disposto a scopo precauzioni la sospensa dell'attività dello stabilimento di Erlon visto qua i primi casi di questo focolaio si sono registrati nel Regno Unito ed erano proprio legati alle confezioni degli ovetti kinder gli ovetti interessati avevano scadenza compresa tra l'11 luglio e il 7 ottobre di quest'anno e sono stati tutti realizzati nello stabilimento di Arlon in Belgio altri prodotti Ferrero non sono stati finora interessati da casi di salmonelle i sintomi aveva spiegato l'agenzia per sicurezza sanità del Regno Unito si risolve in pochi giorni ma non vanno sottovalutati ok abbiamo letto siamo su facebook ragazzi qua siamo su facebook eccoli qua quelli che ridono questa è la redazione dei fanpage punto it Rafi Tivitarelli guardiamo qua Andrea Italiano Anna Bosco Daniele Oliveri Flavio Rizzo Farway Cristi 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 Alicchi Alicchio cosa c'è da ridere non lo so aspettate che cerco di trovare chi è che sa la ridere eh visto alcuni iniziano a fare i commenti idioti no salmonella mica è un virus è un batterio razza di idioti ok adesso su fanpage qui alcuni stupidi a ridere questi avranno problemi perché non sono normali e poi ce lo dicono a noi vabbè va basta così ok ragazzi vi mostrerò che andremo a vedere la salmonella da più vicino e anche assieme al covid in una simulazione che ho fatto io e concluderemo il video va bene beh questo qui è il campione giusto adesso andiamo a vederlo qua siamo a un millimetro già e la macchia non è messa a fuoco adesso la proveremo a mettere ancora di più a fuoco era questa la macchia che si doveva mettere a fuoco guardate che cosa mi ha dato eh qua qualcos'altro che dovrei mettere a fuoco pure ma non si vede tanto bene eh andiamo a mettere questo anche a fuoco eh guardate visto ho messo a fuoco mi ha dato questo andiamo a vedere questa è la cioccolata sembra il campione che noi stiamo andando a osservare ah qua l'ingrandimento già siamo al micromondo micro eh non siamo più ai millimetri micromondo il nanomondo è ancora più piccolo qua si possono vedere vari tipi di microorganismi oh cosa vediamo qua oh guardate non riesco a distinguerlo è sfocato le macchioline noi stiamo cercando la causa in questa cioccolata di chi sia eh stiamo analizzando la salmonella ma ancora non li vediamo questi batteri ci vuole un altro ingrandimento ecco qua messo a fuoco si è la salmonella eccola qua su una micro goccia di cioccolata qui non è solo ho aggiunto anche lui il covid guardate i coronavirus sarebbero queste macchioline questi puntini neri perché i virus sono molto piccoli e non si riescono a vedere sono più piccoli di un batterio comunque infatti il tito non ci ho solo messo non solo il covid pure la salmonella la kinder è a rischio così il titolo sintitolato guardate la salmonella questo è un batterio questo batterio praticamente è nell'intestino e fa molti danni ma qui di più sono stati ricoverati molti bambini a parte ragazzi o adulti chi si mangia gli ovetti kinder per fortuna le uova di pasqua sono stati immuni perché io ho aperto molte uova di pasqua kinder e non c'era per fortuna era solo negli ovetti e in alcune cose tranne le uova di pasqua comunque visto che abbiamo visto chi è chi era la causa direi che possiamo concludere il video qui va bene ragazzi beh ragazzi spero tanto che questo video vende di hashtag la notizia non solo il covid pure la salmonella la kinder è a rischio vi sia piaciuto iscrivetevi al canale mila condit un bel like e noi ci vedremo in un prossimo più tardi in un prossimo video ok noi ci vedremo alla prossima ciao ciao